Sì, sono appena arrivato, non sento niente, guardate, prendo l'autobus, il bus, cinque minuti, va bene, ciao, ciao. Sì, sono appena arrivato, non sento niente, guardate, prendo l'autobus. Allora, ciao. Oh, aspetta, aspetta, per andare a Zanica. A Zanica devi fare almeno un cambio di pullman, poi a quest'ora buona fortuna. Sì, sono appena arrivato, non sento niente, guardate, prendo l'autobus. Allora, ciao. Allora, ciao.